Sorride solo l'Aquila dopo l'ultimo turno della Gerona F di Serie D, perché le altre tre abruzzesi, tra sconfitte più o meno pesanti e un pari deludente, escono dalla venticinquesima con più di un motivo per non essere contente. I rosso-blu di Cappellacci, grazie al centro di Banegas nel recupero della prima frazione sulle Roma City, non solo mantengono salda la terza piazza, ma complice anche il pareggio sorprendente della San Benedettese che esonera Lauro in serata, Tarosicchia ha anche due punti ai marchigiani, che da adesso in avanti saranno guidati da Marco Alessandrini. Il campo basso fa il suo, ma questo ormai non è più una novità. Così come sembra non esserlo più neppure il 3-4-3 di Cappellacci, nuovo vestito, efficace, per l'Aquila che pare molto a suo agio perché subisce poco o nulla dietro anche con Roma City e coi suoi uomini offensivi riesce comunque a trovare sempre lo spazio per vincere la partita. Crolla il Chieti invece, malgrado l'arrivo in panchina di Pasquale Luiso e cinque reti incassate a Fano contro una formazione che aveva giocato quattro giorni prima il recupero, perso col notaresco, oltre a rappresentare la conferma del momento nero della squadra, sono un risultato umiliante per un sodalizio che aveva anche accarezzato il primo posto in avvio e che invece adesso inizia a guardarsi alle spalle. Dopo poche ore anche le dimissioni di Poglio, ma più in generale la capacità del Chieti di distruggere quello che aveva fatto all'inizio è davvero preoccupante. Anche le cinque sberle del Mancini per modalità sembrano restituire il senso di una squadra mentalmente scarica e in balia dell'avversario di turno. I punti restano 33 e pensare che a fine 2023 erano 30 dalla misura della crisi senza fine di un Chieti che ha già avuto tre guide tecniche, che sembra essere stato costruito per un modo di gioco e si ostina a perseguirne pervicacemente senza frutti un altro. La partita con il vasto Girardi, che tempo fa poteva essere considerata non impossibile sulla carta, allo stato attuale sembra un ostacolo in grado di far traballare le ultime residue e minime speranze di riacciuffare il filo del discorso perso tanto troppo tempo fa. Non è una sconfitta ma è in ogni caso deludente il pareggio senza reti dell'Avezzano, al cospetto di un Termoli che costruisce tanto nella prima frazione e a cui sarebbe bastato un pizzico di cinismo in più per passare al Dei Marsi. Incredibile come l'Avezzano, tornato al successo fuori casa dopo settimane in cui vinceva solo tra le mura amiche e in pochi giorni si è riuscito a ribaltare tutto. Vittoria nel derby all'Angelini di Chieti, Scialbo X davanti al proprio pubblico contro una compagine che ha come obiettivo la salvezza. Dunque, come al solito, manca continuità di rendimento che avrebbe assicurato una posizione e anche un putteggio superiore in classifica, anche se la posizione rimane la numero 4. Domenica la trasferta di Campobasso è oggettivamente la più complessa ma i biancoverdi di Ferazzoli per caratteristiche potrebbero avere nella faretra il colpaccio. Stop infine anche per il notaresco a Fossombrone nella settimana dei tre impegni. Le gare con Vasto Girardi e Fano nel recupero avevano fatto sognare il bottino pieno dei nove punti e invece ci si è messo Casol a rovinare i piani di Bruno con una rovesciata meravigliosa che Bonfiglio avrebbe potuto neutralizzare qualche istante dopo. Il 2-0 arrivato nella ripresa è un risultato negativo ma la quinta piazza e il passettino che manca per la matematica salvezza sono comunque un risultato straordinario, date le premesse.